Non riuscivo a credere a quello che stava succedendo. A mio primo comando. A me. Avrei dovuto, non so di dire, aiutarmi. Portarli con noi e affrontare tutte quante le conseguenze. Cazzate, in confronto a quello che è successo dopo. Molti sono rimasti feriti durante il naufragio, ma tutti hanno delle vecchie cicatrici molto simili tra loro. Sono stati aggrediti? Torturati, credo. Pare che vogliono riportarli in Libia. Noi dobbiamo capire se è vero e se è vero impedirlo. Sono vivi per miracolo. Rimandarli lì significa condannarli a morte. Dal governo mi hanno dato un ordine molto preciso. Non ho deciso io di rimandare in Libia. Che ne sai dell'inferno? Lo conosci? Ci sei passata. Tu non sei niente dell'inferno. Ci sono cinque mila persone qui a bordo. Questa cosa deve finire e anche in fretta. Non sta succedendo niente. Stiamo aspettando. Io sono stanco di aspettare. No, poverti! Dammi una possibilità di salvarmi. Ti sto chiedendo solo questo. Mani in alto! Forse... Forse Dio ci sta dando adesso. Quello che non ci ha permesso di avere prima.